Popoli a braccio il nuovo parroco Don Gilberto Squategui, la battaglia legata alla rivoluzione nelle parrocchie c'è del passo alla festa. I popolesi, ancora amareggiati, profondamente dispiaciuti per la partenza di Don Luigi Ferrari, hanno accolto a braccia aperte il nuovo pastore Don Gilberto, con lui sono pronti a continuare un'intensa attività parrocchiale per far sì che la comunità non si adagi ma progredisca sempre, prestando attenzione agli ultimi. La comunità parrocchiale non ha nulla contro il nuovo parroco Don Gilberto, i precedenti conflitti avuti con Monsignor Michele Fusco non sono stati atti di discriminazione del nuovo parroco ma bensì una denuncia di un sistema non in grado di tener conto del popolo e di conseguenza prendere decisioni buone e profigue per la crescita di una comunità, commentano dalla parrocchia, non senza rivolgere un augurio al nuovo parroco. Carlo Don Gilberto, ora è arrivato il momento di prenderci per mano, farci guidare da Gesù buon pastore, concludono i fedeli.